Buonasera, benvenuti. Allora, in questo mare di musica vivaldiana che ci ha portato il Festival Vivaldi, davvero tanta, tantissima musica, un'occasione per riscoprire quello che è il più importante tesoro musicale che custodisce la nostra città, ossia 27 libroni pieni di manoscritti e autografi di Vivaldi, le sue partiture di lavoro che abbiamo l'occasione anche di rivedere nella mostra che la Biblioteca Nazionale ha allestito per l'occasione, tanta musica, dicevo, di tutti i generi, orchestrale, da camera, sacra e profana, anche l'opera. Il Teatro Regio ha programmato l'incoronazione di Dario di Vivaldi ed è la prima opera messa in scena a Torino, la prima opera di Vivaldi che si può vedere rappresentata a Torino. Sono state fatte alcune esecuzioni in forma strumentale, ovviamente, ma questa è la prima produzione scenica. Quindi è un episodio storicamente importante che certamente è giusto che stupisca. Tutti conoscono Vivaldi, l'hanno sentito nominare, è uno dei compositori più celebri, possiamo dire, ma è uno dei compositori più sentiti, non si riconosce poi più di tanto la musica. Per di più, all'indomani della morte di Vivaldi, nel 1741, sono seguiti due secoli bui in cui il suo nome è stato dimenticato e solo nel dopoguerra si è cominciato a riscoprirlo. Ciò nonostante il Vivaldi operista, in particolare rispetto a quello strumentale, è ancora un gioiello in gran parte da scoprire, soprattutto in Italia. E un gioiello, mi permetto di dire, si sta rivelando anche questa incoronazione di Dario che appunto il teatro ha programmato nell'ambito di un filone specifico voluto dal direttore artistico Gaston Fournier-Fassio, quello dell'opera barocca. E per cui nel corso delle ultime stagioni, in quelle a venire, la frequentazione e la programmazione del repertorio 600 e 700 preclassico sta avendo una continuità che prima non aveva. Ricordo che abbiamo visto Giulio Cesare di Handel e di Dona e Dania di Purcell, quindi con Vivaldi rientriamo in Italia. Il repertorio barocco che peraltro negli ultimi anni ha avuto un grande rilancio, anche da punto di vista, anche grazie a regie che hanno saputo, come dire, in quanto innovative e molto moderne, soffiar via la polvere dei secoli. L'occasione è appunto importante e oggi abbiamo la fortuna, e io l'onore, di poter parlare di quest'opera con i principali artefici della nostra produzione. Per cui voglio ringraziare Ottavio D'Antone, direttore dell'opera e anche impegnato al crevicembalo, come poi vedremo meglio, e Leo Muscato, regista. Ottavio D'Antone è specialista da molti decenni del repertorio barocco, un eccellente crevicembalista, ha iniziato la sua carriera in questa veste per poi dedicarsi anche alla direzione dell'orchestra, e nel 1996 è diventato direttore musicale dell'Accademia Bizantina, l'ensemble che ha portato a essere un punto di riferimento internazionale per l'ambito barocco, con molti dischi pubblicati. E per cui, vista questa premessa, lo coinvolgo subito, rompiamo il ghiaccio e gli chiedo, è vero che l'opera barocca in Italia ancora fatica, o le cose si stanno migliorando, stiamo recuperando il terreno rispetto all'Europa? Ah, perfetto. Allora, in un certo senso è vero che se dobbiamo fare un confronto con quello che succede fuori dall'Italia, come ad esempio Germania, Francia, e forse anche Svizzera, perché comunque teatri come quello di Zurigo programmano regolarmente più di un titolo barocco, anche in una sola stagione. Se facciamo il raffronto con questi paesi, sì, l'Italia è un poettino indietro, anche se i segnali, e non parlo solamente della bellissima intuizione di fare quest'opera di Vivaldi, come anche le precedenti, Giulio Cesare e di Don Enea, non soltanto qui a Torino, anche alla Scala, per esempio, dove ho diretto nel 2004 un Rinaldo di Endel, poi è stata fatta la trilogia di Monteverdi, anche teatri di tradizione, alla Fenice di Venezia, sono stati dei tentativi di, in un certo senso, far ascoltare il pubblico italiano in modo da riappropriarsi di una tradizione musicale e culturale che è proprio del nostro paese. Pensate che l'opera nel 1700, ma anche nel 600, era quasi prevalentemente in lingua italiana. L'Italia, all'epoca di Vivaldi, e anche prima, era considerato un paese dove era un musicista, qualsiasi musicista che volesse formarsi e fare carriera, doveva assolutamente passare dall'Italia per imparare e affinare il suo gusto. Quindi l'Italia, all'epoca, era un punto di riferimento, un faro culturale, dal punto di vista della musica, non solo, chiaramente da tutte le arti. Poi l'avvento del melodramma romantico, in un certo senso, ha naturalmente fatto dimenticare i titoli barocchi, ma questo non soltanto in Italia, per carità. Era normale, anche all'epoca, quando un manoscritto come questo dell'Incoronazione di Dario, ma tutti gli altri, una volta consumato, una volta fatto, veniva messo da parte, non si usava poi riproporlo, tranne in rarissimi casi. Per cui, il fatto di avere obbliato proprio questo genere, il barocco, in virtù giustamente della musica propria dell'epoca, quindi nell'Ottocento, nel corso del secolo XIX, e poi ancora nel secolo XX, era un fatto normale. La cosa curiosa è però che la rinascita della musica antica è il riscoprire il barocco anche da un punto di vista proprio esecutivo, cioè la riscoperta anche degli strumenti antichi, perché questo è un discorso molto lungo e complesso, ma comunque non è partita dall'Italio. Il ritrovamento dei manoscritti di Vivaldiani, sì, è un fatto avvenuto in Italia, ma di fatto poi, prima che Vivaldi diventasse conosciuto e in generale la musica barocca si eseguisse regolarmente, è passato ancora molto tempo. Attorno agli anni 50-60, i primi gruppi di musica barocca che si occupavano della riscoperta di questo repertorio sono nati infatti in Olanda o in Inghilterra o in altri paesi. E fino a quando io ero ragazzo, fino agli anni, ai primi anni Ottanta, la musica barocca con strumenti antichi si ascoltava in Italia soltanto fatta da ensemble e orchestra straniere. Poi sono, chiaramente l'Italia, io dico sempre, si sveglia sempre un po' tardi. Quando poi si sveglia le cose le sa far bene, perché poi sono nati gruppi italiani, come il mio, ma anche altri, tanti altri gruppi italiani che adesso sono un assoluto punto di riferimento, perché comunque, diciamocelo chiaro, la lingua italiana in rapporto alla musica barocca e quindi soprattutto alla musica operistica, ma non solo, anche strumentale, era strettamente legata. cioè l'esecuzione della musica barocca, anche strumentale, aveva un rapporto da un punto di vista ritmico ed espressivo con la parola. E la parola, all'epoca, era la parola, la lingua italiana. Quindi adesso, oggigiorno, i gruppi italiani che eseguono musica barocca sono richiestissimi all'estero, perché hanno una comunicativa e una capacità di esprimere le emozioni nascoste nelle partiture, proprio perché c'è una connessione molto stretta con la lingua. Quindi, per rispondere finalmente alla domanda, c'è un risveglio da questo punto di vista che è stato purtroppo un po' frenato anche dall'avvento della crisi che, da un punto di vista economico, ha penalizzato, come tutti sappiamo, anche la cultura, o meglio, la cultura prima ancora di altre cose, perché comunque il problema italiano è che si considera la cultura come qualcosa diciamo di secondario, superfluo. Se c'è abbondanza si può fare, altrimenti non serve. In realtà, io considero la cultura in generale, non parlo solo della musica, come una, qualche cosa che dà vita e formazione alla società stessa, cioè dovrebbe essere equiparata addirittura alla sanità, nel senso che l'abbruttimento della società può passare anche attraverso il dimenticarsi cos'è la cultura. Però, ci sono, quando si trovano persone che hanno il coraggio di riprendere questa tradizione, perché è importante creare un ponte tra l'antico e il moderno, tra l'antico e il romanticismo, perché è tutto molto collegato. Quando c'è questo coraggio i risultati si vedono e qui a Torino devo dire che l'operazione ha avuto pieno successo sotto tutti i punti di vista. Li vedremo man mano, grazie. Peraltro, Ottavio D'Antoni debutta sul podio dell'Orchestra del Regio per fare un'opera, è stato qui l'anno scorso per un concerto e quindi finalmente lo possiamo, come dire, possiamo beneficiare della sua presenza anche per l'opera. ed è un debutto quello che fa qui anche Leo Muscato che è un regista che ha alle sue spalle almeno due decenni di attività in primis all'inizio soprattutto nell'ambito del teatro di prosa e che negli ultimi 10-15 anni ha regalato invece al mondo dell'opera allestimenti originali e brillanti. peraltro colgo l'occasione nel dire due parole su di lui per ricordarvi e comunicarvi che sarà ancora Torino a maggio per il teatro stabile dove cura la regia dell'adattamento del romanzo di Umberto Eco Il nome della Rosa e quindi è uno molto attivo e su molti fronti classici e di scritture. anche all'opera ho visto che ha diretto titoli Verdiani del Primo Verdi Puccini 900 meno battute frequentato l'ultima opera credo sia La Bella Dormente a Cagliari Respighi e questa mi pare che sia la tua prima opera barocca. Nell'affrontarla il tuo approccio al testo le tue idee si sono diciamo accumulate secondo i soliti schemi o hai incontrato delle novità che ti hanno modificato il tuo modo di pensare al progetto? Buonasera diciamo che tendenzialmente l'obiettivo che ci poniamo io con il mio team creativo è quello di cercare di rendere quanto più possibile necessaria allo spettatore a cui poi ci rivolgiamo l'opera che stiamo mettendo in scena cercare di renderla necessaria almeno provare ad avvicinarsi a quanto quell'opera lì è stata necessaria per gli spettatori per cui è stata pensata originariamente chiaramente bisogna per forza di cose fare delle trasposizioni perché nel corso del tempo passano dei secoli che molto spesso non lasciano indenni proprio la cultura il modo di approcciarsi all'opera quindi non possiamo non tenere conto di questa cosa quando un paio di anni fa il maestro Forniemi ha parlato di questo progetto era compreso all'interno di questa messa in scena anche un'idea che era nata qui dal Teatro Reggio di una collaborazione con l'Accademia Albertina perché come probabilmente saprete le scene e i costumi di questo spettacolo sono state realizzate in collaborazione con gli allievi di scenografia ci sarei arrivato vedi ho già bruciato l'altra domanda vedi che faccio no no prego vado avanti ti continuo a bruciarti no perché ciò comprendeva anche un percorso pedagogico abbiamo trascorso quasi un anno con gli allievi incontrandoci a scadenza mensile ad analizzare il testo a lavorare sul testo e a capire anche quale direzione poi avremmo potuto dare a questa storia che ha una trama abbastanza complessa abbastanza complicata ma ti brucio anche la trama si la trama la racconteremo man mano qual era la domanda? no l'opera barocca l'opera barocca l'opera barocca era facile il primo incontro con l'opera barocca il primo il primo addirittura il primo incontro con l'opera barocca che per forza di cose ha delle qualità relazionali tra i personaggi molto diverse rispetto a quelle che sono per esempio le qualità relazionali nell'opera ottocentesca oppure novecentesca come si diceva la prima cosa la più importante è che non c'è nella relazione tra i personaggi non c'è nessun tipo di implicazione psicologica i personaggi sono quasi sempre degli archetipi a maggior ragione in quest'opera qui non c'è nessun desiderio di aderire ad una qualunque verosimiglianza dei rapporti che la gente ha nella vita reale di tutti i giorni non c'è nessuna nessuna aderenza al naturalismo anche perché sarebbe arrivato più o meno centocinquant'anni dopo più o meno rispetto alla stesura di quest'opera di questo libretto in quest'opera c'è una cosa molto interessante il librettista Morselli è stato uno fra i primi a mischiare due mondi diversi a fronte di temi alti di argomenti anche seri c'era lui utilizzava molto spesso delle qualità librettistiche che mettevano i personaggi nella condizione di trattare in maniera molto ironica questi argomenti seri che di fatto erano sotterranei nella trama e era un tentativo di avvinare appunto come diceva l'argomento serio a quelle che erano le maschere della comedia dell'arte che era il teatro che fondamentalmente si faceva ancora in quegli anni i goldoni soltanto qualche decennio più tardi avrebbe avviato la sua famosa riforma ma facendo un'analisi appunto ormai l'ho già bruciato alla domanda successiva però facendo un'analisi con i ragazzi dell'accademia ci siamo accorti che andando in profondità appunto nell'analisi dei personaggi quasi tutti i personaggi sono praticamente ascrivibili ai comici della comedia dell'arte perché era quello il teatro che fondamentalmente vedeva la gente dell'epoca tutte le implicazioni concettuali psicologiche sono soltanto dei substrati che sono arrivati soltanto dopo con la cultura del novecento fondamentalmente noi abbiamo cercato in questa messa in scena di tenere più presente quel mondo lì e cercare di restituirlo con mezzi affatto nuovi completamente diversi allo spettatore di oggi perfetto appunto Leo Muscato ha già anticipato il terzo nuovo elemento di questa produzione che è importante da sottolineare che è stata la collaborazione con l'Accademia Albertina di Belle Arti come ha già ricordato Leo e grazie al progetto scenografico e dei costumi è stato realizzato da loro non solo ma i costumi sono anche stati materialmente prodotti dall'Accademia che per l'occasione si è dotata di un vero e proprio laboratorio sartoriale peraltro il lavoro che hanno fatto i docenti di scenografia scenotecnica e di costume dell'Accademia con i loro allievi è oggetto di una mostra che è allestita nel foglio del toro e che vi invito a visitare dove potrete vedere i modellini molto accurati che sono stati realizzati i bozzetti una lunga serie di figurini per i costumi oltre a reportage video che raccontano questo lungo lavoro prima di progettazione poi di realizzazione dello spettacolo fino al montaggio in scena che Leo Muscato ha seguito in questi mesi direi che è bene che cominciamo a parlare dell'opera se no Leo Muscato mi vorrà tutte le domande in colonizzazione di Dario è stata scritta da Vivaldi nel 1717 e la settima delle sue 45 opere teatrali ed era stata concepita per chiudere la stagione di carnevale di quell'anno al Teatro Sant'Angelo di Venezia un teatro che è collocato sul Canal Grande qui è identificato in facciata in una pianta di Venezia dell'epoca il libretto non è nuovo appunto Vivaldi qui come in altre occasioni sceglie un libretto scritto ben 30 anni prima da Adriano Morselli la prima intonazione risale infatti a 1684 questo peraltro come dire importante rispetto al discorso che qui già accennava Leo Muscato sulla natura di quest'opera che ha un titolo serio ma che nasconde aspetti comici come andò la prima assoluta la prima assoluta ebbe un buon successo questa è una recensione apparsa l'indomani della prima sul giornale Palla de Veneta e dice sabato pure scorso nel teatro di Sant'Angelo ebbe principio il nuovo drama musicale in cui rappresentasi con magnificenza l'incoronazione di Dario che riuscì con applauso è una fase d'oro per Vivaldi che appunto oltre all'attività all'ospedale della Pietà dove insegna musica alle orfane che lì sono ospitate intraprende prima la carriera di impresario teatrale con la collaborazione del padre pure lui violinista e barbiere tra l'altro queste due professioni erano evidentemente non solo compatibili ma curiosamente fatte dalla stessa persona e in quegli anni debutta con almeno quattro opere l'anno prima nel 1716 fa pubblicare due raccolte di sue composizioni l'opera quattro della raccolta di concerti e l'opera cinque ad Amsterdam dall'editore de Roger e quella stessa stagione di carnevale del 1717 si era aperta con una sua opera l'Arsilda Regina di Ponto che anche aveva avuto molto successo dice infatti mercoledì sera la regina Arsilda comparve sulle scene del Sant'Angelo ravvivata dalle idee poetiche e musicali e rincontrò tale applauso che se gli è pronosticata una grande fortuna quindi questo per dire che Vivaldi che aveva una fama di virtuoso in quegli anni acquista e conquista lo status di compositore recenti studi hanno anche datato in quei mesi dal gennaio del 17 la prima esecuzione della Judita Triumphans l'oratorio che ancora oggi è tra le composizioni più conosciute siccome però vorrei far parlare più i nostri ospiti direi di entrare un po' nella vicenda dell'opera e di anche ascoltare un po' di musica e comincerei dall'ouverture che farei commentare a Ottavio D'Antone non prima di segnalarvi che i brani che ascolteremo sono dal disco che il maestro D'Antone ha inciso con l'Accademia Bizantina tre anni fa nell'ambito della Vivaldi Edition che è una grande opera di edizione discografica che ha avuto il suo principio nel 2000 con la collaborazione dell'Istituto Beni Musicali in Piemonte e ovviamente della Biblioteca Nazionale dico ovviamente perché la Vivaldi Edition ha l'ambizione concreta di realizzare i dischi di tutte le partiture di cui conserviamo qui a Torino il manoscritto il cast peraltro che figura nel disco è quasi lo stesso che abbiamo il piacere di sentire qui nella nostra produzione e dell'occasione anche per recitarveli il protagonista nel ruolo del titolo Dario e Carlo Allemano Statira Sara Mingardo Argene del Fingalù Niceno Riccardo Novaro Alinda Roberta Mameli Oronte e Lucia Cirillo Arpago Veronica Cangemi Flora Romina Tommasoni Ombra di Ciro e Oracolo Kalen Gandhi Chi sono Costoro lo vedremo dopo intanto vorremmo sentire l'ouverture ci puoi dire due parole sull'ouverture l'ouverture in realtà a differenza dell'ouverture come viene poi concepita più tardi direi dopo la metà dell'Ottocento all'epoca non era altro che un modo per richiamare gli spettatori all'inizio dello spettacolo allora sta per cominciare non è forse il caso nel tempo di parlare quali erano le abitudini del pubblico all'epoca di Vivaldi nei teatri ma comunque c'era una gran confusione l'ouverture molto spesso almeno all'inizio non poteva certo cominciare in maniera troppo dolce perché comunque deve essere qualcosa di ritmicamente e anche come dinamica di sicuro richiamo quindi ragazzi sedetevi perché sta per cominciare per cui posso dire che l'ouverture è molto gradevole non ha teoricamente nulla a che vedere con l'opera ma comunque è composta dalla tipica suddivisione in tre tempi un allegro è finalmente un tempo di andamento andante o dolce e poi un brevissimo ed è sempre così allegro finale come dire si comincia e poi comincia l'opera quindi chiaramente non ci sono temi o riferimenti che poi hanno a che fare con l'opera però appunto è interessante vedere la caratteristica anche ritmica di un'ouverture di questo tipo che appunto distoglie lo spettatore da quello che stava facendo lì stava chiacchierando mangiando eccetera perché si stava per cominciare l'opera prego ascoltiamola e quindi questa è l'ouverture che ci richiama l'attenzione l'attenzione si focalizza nella prima scena su quello che in sostanza è l'antefatto Ciro l'imperatore di Persia è morto e appare in sogno alle due figlie Satira e Argene appare per consolarle e alleviare la loro sofferenza per la perdita del padre e questo è il modo in cui noi vediamo a sapere che c'è un trono vacante intorno a questo trono si scatena una gara una lotta per poterlo conquistare e i pretendenti al trono sono ben tre uno è Dario che è il nobile persiano più avanti si farà si proporrà Oronte che invece è un comandante militare un esponente di quel mondo terzo Arpago che sembrerebbe un demagogo buono per tutti i tempi entra promettendo regali ozzi e riposo per tutti il primo atto diciamo stabilisce questa dinamica appunto di lotta per il trono ma quindi tutti in qualche modo vorrebbero conquistare Statira che è la figlia maggiore per cui è l'erede designata questo rapporto diciamo triangolare di tre uomini che cercano di insediare la donna è complicato da diciamo da interferenze che stabiliscono gli altri personaggi uno è Niceno che è diciamo il procettore di corte il filosofo che è invaguito di Statira e vorrebbe condurla a sé la sorella Regene Regene anche si innamora di Dario diciamo a prima vista al primo incontro ed è disposta a a liberarsi della sorella in tutto questo Niceno ovviamente diventerà complice perché anche lui è interessato a che Dario venga vada in sposo a Dargene piuttosto che a Statira Oronte a sua volta è amato da un'altra donna Alinda che si ripresenta in più momenti dell'opera per cercare di riconquistare il suo antico amore a me ha fatto venire in mente una sorta di donna Elvira che con don Giovanni questa situazione però è tanto più ingarbugliata da un fatto ossia la figlia maggiore appunto quella cui spetterebbe di regnare ha una caratteristica personale molto particolare e che produce appunto è la fonte principale che produce effetti comici come già è stato anticipato nel senso che Costei non è del tutto sana di mente quindi non si sa decidere chiede agli altri personaggi che rispondono in sua vece e quando riceve la proposta di Dario il primo che si fa avanti si scarta di lato non capisce neanche bene la domanda è un personaggio molto particolare Leo che appunto non ci si aspetta affrontando un'opera come questa so che nel corso del tempo la visione della tua regia si è un po' modificata rispetto a quanto gli aspetti comici dovessero entrare in scena ci puoi dire come come risolvere il problema di un personaggio così anormale no il personaggio di Statira c'è una didascalia che dice che è difettosa di mente da qui vai a capire in quale modo puoi andare ad interpretarla sta di fatto che molto semplicemente la meraviglia del teatro è che lo scopri facendolo poi in realtà ci siamo resi conto quando eravamo qui che praticamente provevamo a mettere in scena quelle parole quelle azioni che sono già scritte nel testo diventava quasi irrinunciabile la possibilità di spingere il pedale dell'acceleratore su questo mondo comico sotteso proprio perché si diceva non c'è nulla di naturalistico provate ad immaginare quasi direi il 15% delle parole sono degli a parte che nel linguaggio della commedia dell'arte dell'epoca sono tutti quei pensieri che i personaggi hanno che dicono ad alta voce al pubblico senza che gli altri personaggi di fianco possano sentirli quindi c'era una serie di pensieri che raccontavano esattamente la cosa opposta a quella che stavano facendo in quel momento fra tutti questi personaggi ci sono i protagonisti più importanti sono quelli che hanno delle caratteristiche particolari appunto si diceva di statira difettosa di mente nel senso può essere considerata una persona di una ingenuità pazzesca ma anche di una semplicità la parola semplicità relativa utilizzata relativamente ai suoi pensieri alle sue azioni è diffusa nel testo in una maniera spropositata lo diranno almeno 40 volte tant'è che noi abbiamo unito la parola semplicità anche questo gesto qui che assomiglia anche al fatto è che questo personaggio ha tanti soldi ma tanti tantissimi soldi ed è diventato un basso continuo in questa nostra messa in scena poi ci sono altri personaggi però non so se brucio qualcos'altro ci si prego ci sono altri personaggi molto molto divertenti il personaggio dell'altra sorella Argene che invece è quella che è sempre stata la più intelligente la più bella la più simpatica la più allegra la più furba infatti è proprio una maschera la maschera del furbo della comedia dell'arte se fosse stato un personaggio maschile sarebbe stato un arlecchino probabilmente qui assomiglia un po' di più a Colombina anche se interpreta il personaggio un personaggio nobile no? di fatto probabilmente se volessimo fare un'analisi qui psicologica diremmo che probabilmente sarà vissuta questa ragazza con l'idea che un giorno o l'altro avrebbe evidentemente ereditato il trono visto che l'altra sorella è assolutamente scena appunto e invece succede l'inaspettato ciò che poi diventa il motore per mettere in atto una serie di equivoci di fraintendimenti e di ribaltamenti di situazioni cioè si presentano appunto come diceva prima Simone si presentano a chiedere la mano della primogenita tre rappresentanti di tre categorie sociali molto diverse un rappresentante dei nobili dei grandi poteri un rappresentante della plebe e invece un rappresentante delle milizie quindi sono tre mondi che si candidano a diventare eredi di questo trono quindi però ciò comporta anche sposare la difettosa di mente e tutto ciò poi comporta una serie di ribaltamenti di situazioni anche abbastanza ironici pare esserci uno solo di questi tre realmente interessato a questa ingenuità a questa semplicità alla purezza di questo personaggio ed è il personaggio appunto di Dario che è il rappresentante dei nobili appunto si diceva c'è un quarto pretendente al trono che è questo Niceno che anche lui se dovessimo andare ad immaginarlo in una iconografia da comedia dell'arte sarebbe proprio il classico pantalone è un amico del padre uno che ha cresciuto che ha visto nascere viene detto ad un certo punto nel testo la stessa statira però allo stesso tempo è un momento in cui sembra fantozzi davanti a come si chiamava la signora alla signora Silvani perdutamente innamorato di questa che sarebbe in grado di fare qualunque cosa pur di stare con statira e quindi ereditare il suo trono c'è una scena appunto interessante anche musicalmente su cui mi vorrei soffermare di Niceno con statira quando cercando di farle capire che c'è un interesse da parte sua le fa cantare la musica che sta componendo che sta ascoltando in quel frangente ed è in sostanza Niceno appunto sta scrivendo questa cantata attirata dalla musica che viene dalla sua stanza entra a statira e Niceno cerca di cogliere questa opportunità per appunto per rivelarsi e le fa leggere insomma cantare il testo di questa composizione che Vivaldi sceglie di musicare con l'utilizzo di uno strumento particolare la viola all'inglese e qui vorrei capire da da Ottavio e D'Antone perché questa scelta perché mi sembra pur vero che tutti i brani tutte le aree dell'opera hanno una scelta strumentale accurata no? non sono mai gli stessi strumenti c'è una ricca modulazione qui incontriamo la viola all'inglese perché questo strumento e parlaci anche della cadenza di fatto la viola che tra l'altro Vivaldi aveva appena usato non si usava tantissimo in Italia a quell'epoca la viola all'inglese di fatto poi era trovata all'inglese per il tipo di accordatura ma era di fatto una viola da gamba normale in quanto a ricchezza di timbrica di organico proprio nella Judita Triumphans che è un oratorio biblico Vivaldi aveva utilizzato una compagina orchestrale ancora più ricca c'erano quattro viole flauti a becco mandolino trombe flauti di tutto di tutto nell'inglese di Dario è ricco ma non a quei livelli ma rimane questa cosa di viola da gamba che comunque da un punto di vista evocativo è uno strumento che tra l'altro lui fa suonare con degli accordi arpeggiati quindi la natura dello strumento è simile a quella del violoncello cioè è uno strumento che ha le stesse dimensioni più o meno del violoncello in questo tipo di taglia perché le viole da gamba erano piccole dal violino come dimensioni dal violino fino a una viola a un contrabbasso era proprio la famiglia delle viole da gamba comunque questa viola ha un suono molto dolce molto un po' nasale che normalmente nel immaginario barocco così come per altri strumenti come la tiorba che è quel grande chitarrone montato magari con corde di metallo o il lirone che era uno strumento con tantissime corde che faceva un effetto proprio di accordi che è un effetto magico di fatto la viola da gamba qui viene utilizzata in forma evocativa quasi non dico magica ma un momento magico da un punto di vista espressivo emotivo amoroso per cui la scelta di questo documento fa piombare immediatamente il pubblico e particolarmente anche se l'opera non è stata pensata per un teatro grande come quello del regio di Torino attuale ma proprio in un in un ambiente così grande ancora di più fa piombare l'uditorio e tutta la situazione proprio drammaturgica in quel momento in un'atmosfera veramente irreale che appunto dove lei legge questa lettra che è indirizzata a lei ma lei ovviamente non lo capisce e poi lo stesso espediente poi non vuole bruciare domande viene utilizzato anche da Argenia nei confronti di Dario cioè la lettera questa cosa della lettera che poi è stata ripresa da Peppino e Totone Totò Peppino la mala femmina l'espediente è sempre questo allora ascoltiamo l'area con il recitativo che la precede e poi sentirete che dopo l'area c'è una cadenza e su questo torniamo con il maestro D'Antone appunto maestro D'Antone questa cadenza non è in partitura come si arriva a scriverla e in un'opera barocca quanto il direttore deve intervenire sull'aspetto della scrittura musicale ma quanto deve intervenire dipende anche dalla volontà di intervenire perché comunque per scrivere in stile barocco non soltanto questo ma mi è capitato di scrivere intere ouverture quando mancavano è chiaro che è molto importante conoscere il linguaggio del compositore avendolo suonato e interpretato e studiato tante volte e poi può venire naturale scrivere una cadenza la cadenza la parte finale dopo il canto non è scritta c'è scritto nella partitura la viola cadenza della viola cadenza della viola che alla prima venne suonata la Vivaldi questo questo è sì esatto sì probabilmente Vivaldi l'avrà improvvisata era normale a quell'epoca non era questione di essere genio o meno genio era un'abitudine quella di improvvisare oggi si è un po' perso questo questa diciamo questa pratica che 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 invece io ho conservato fin da bambino perché avendo iniziato come autodidatta leggere e scrivere la musica mi sono ritrovato quindi a fare un percorso di studi abbastanza simile a quello che poteva essere all'epoca quindi anche l'improvvisazione come disciplina quotidiana proprio di inventare la musica per cui a me capita di scrivere questi inserti quando serve per esempio quando magari Leo o in altre situazioni mi chiede qua mi servono dieci secondi di musica perché c'è un cambio in scena o c'è bisogno è normale basta chiedere e si fa si suona si improvvisa più o meno si collega le cose senza il gettone è un jukebox che va anche senza gettone non chiedo un euro a jukebox ma questo ripeto era una cosa abbastanza normale l'altra cosa però importante e che vale la pena forse di sottolineare è l'aspetto delle variazioni nei da capo allora questo aspetto della struttura delle arie nell'opera barocca che presenta una parte A dove si dice dove si canta una strofa o più poi c'è una parte B normalmente in un altro carattere dove si canta un'altra strofa normalmente che è in contrasto comunque fa vedere un altro lato del problema e poi il problema più grosso per i registi è che questi poi si ricantano la parte A come dire io amo questa donna perché la conosco da fin da bambino poi nella parte B anche se litighammo molte volte e poi io amo questa donna perché immaginate il regista che quando uno dice una cosa dice un'altra e poi deve ridirla però dovete sapere che nell'epoca di Vivaldi la figura di Leo non esisteva proprio esisteva soltanto un apparato scenico molto ricco normalmente anche per quello che molti teatri sono bruciati perché a volte per fare degli apparati scenici molto appariscenti con fuochi veri eccetera eccetera più di una volta sono bruciati i propri teatri ma proprio scenografie imponenti anche perché queste supplivano a un'azione vera e propria infatti come diceva Leo prima il naturalismo non c'è perché comunque il senso di tutto questo era dato dalla capacità vocale dei cantanti e questo è il significato del da capo perché nel da capo si metteva si faceva sfogli si metteva in luce l'abilità del cantante sia virtuosistica ma anche espressiva e quindi questo era un punto da un punto di vista della scena chiaramente i cantanti si muovevano ma appunto era il mondo della comodità dell'arte erano in grado di improvvisare non voglio immaginare quali erano i risultati vi dico soltanto una cosa c'era un castrato che si chiamava Caffarelli che per contratto ogni opera che lui interpretava di qualsiasi tipo lui doveva cantare all'inizio l'aria che gli piaceva a lui che non c'entrava niente con quell'opera e doveva entrare in scena su un cavallo con un ciniero sulla testa altrimenti non cantava durante le aree dei suoi colleghi lui normalmente era uso mettersi nel palco di laterale appoggiato così e questo mentre cantava lui faceva commenti prendendolo in giro quindi immaginate non solo non c'era il regista ma era un bordello totale quindi non mi ricordo le variazioni appunto di primo le variazioni io le scrivo perché i cantanti me le chiedono adesso mi considerano uno specialista delle variazioni ma semplicemente ho preso l'abitudine nel da capo a cambiare le note e cambiare le note cosa vuol dire è che se c'è una linea vocale nella prima parte per esasperare ancora di più un'emozione o un passaggio virtuosistico espressivo usavano cambiare le note cioè fare le variazioni attenzione non erano necessariamente tutte improvvisate perché sono molte testimonianze di cantanti anche strumentisti che si scrivevano quelle che gli venivano meglio quelle che comunque avevano maggiore impatto però nel da capo la variazione è obbligatoria perché non avrebbe senso ripetere una cosa da capo così uguale tale e quale come era prima quello che tiene in piedi musicalmente il da capo è la variazione e poi qui oggigiorno la bravura del regista è dare a tutto questo un senso anche da un punto di vista del movimento nello spazio e sulla scena e qui Ottavio lascia una domanda sul piatto a Leo quindi le ripetizioni ma anche il fatto che con i recitativi appunto l'azione procede e poi ci sono questi momenti queste stasi determinati dalle arie non siamo ancora a arie diegetiche insomma in cui ancora l'azione va avanti come si risolve il problema come l'hai risolto nell'opera barocca in generale l'azione viene portata avanti soltanto da recitativo e poi quando arrivano le arie tutto si ferma di fatto noi non potevamo inventarci delle cose molto diverse da queste ogni volta che arriva un'aria i personaggi continuano ad essere in azione ma non possono avere una qualità di relazione fra virgolette naturalistica come l'hanno nei recitativi che sono di solito molto ironici molto divertenti qui in qualche modo l'azione si ferma ma si ferma in modo tale che la composizione del quadro che si viene a formare è già abbastanza eloquente nella parte A dell'aria nella parte B cambia qualcosa e poi nel da capo cambia ancora qualcosa una cosa che ho continuato a ripetere agli interpreti ai mimi che poi prendono parte dell'azione è che le indicazioni che un regista dà di solito faccio dicono la banalità stare seduto uno può stare seduto in mille modi diversi in questo momento siamo tre seduti con tre anzi siamo duecento seduti con duecento qualità posturali diverse però io sono seduto in questo modo e probabilmente racconto qualcosa se soltanto continuo ad essere seduto ma ho questa postura qui già questa mia qualità posturale racconta una cosa completamente diversa giusto? se mi metto sempre seduto ma prendo questa qualità posturale qui ho una qualità posturale che racconta una cosa molto diversa quello che facciamo di fatto nelle aree è provare a continuare ad essere narrativi cambiando delle qualità posturali che continuano a raccontare dei cambiamenti di pensiero che però non possono essere espresse attraverso reali qualità di relazioni fra i personaggi poi ce n'è una in particolare ma brucio qualcosa? chi può dirlo? c'è un momento estremamente esilarante nel terzo atto quando era veramente arrivato ripetevano la stessa frase il personaggio di Satira ripete la stessa frase più o meno 64 volte e ci siamo inventati lì un meccanismo comico veramente irresistibile cioè che sono due persone che cercano di portarla via e lei dà l'impressione veramente che stia per andare via e poi di fatto torna indietro e c'è un meccanismo comico reiterato nel tempo che ha un senso e ci auguriamo che possa divertire anche voi un'altra scena molto divertente e qui accendava prima Ottavio e con questo ci rimettiamo in cammino nel percorrere un pochino l'opera e la scena della lettera lasciati Niceno e Argene dopo il brano che abbiamo ascoltato prima Dario si reca ad Argene va da lei perché le ha in sostanza affidato il ruolo di fare da intermediaria con Satira per poter convincerla a sposarlo Argene riceve Dario e lì per lì improvvisa uno stratagemma cui forse non aveva pensato prima lo mette a sedere e gli dice aiutami a scrivere una lettera mi trema la mano fallo tu per me e in questo modo gli comunica qualcosa che però vediamo se Dario riuscirà a comprendere l'ascoltiamo e poi se mai aggiungiamo ancora qualcosa qui il tenore è norvegese quindi non ha diciamo lo stesso impatto emotivo che sicuramente al nostro perché era molto importante vocalmente chiaramente in un disco mancando la scena è molto più difficile immedesimarsi in una situazione era quindi necessario proprio per il ruolo di Dario che ci fosse un italiano che e qui ritorno al fatto che ho detto prima è molto importante la lingua italiana ma come noi viviamo le emozioni attraverso la lingua che cosa significa per noi dire una frase in un certo modo uno straniero la può dire ma dietro c'è una semantica no una storia del della comunicazione verbale che in un italiano è naturale tutti noi ce l'abbiamo certi gesti se noi vediamo un film comico italiano soltanto un gesto noi riceviamo delle informazioni appunto quello che questo gioco della semantica questi gesti tutte le informazioni che noi attraverso i secoli attraverso le esperienze noi riconosciamo come naturali quindi chiaramente questa scena sul palcoscenico avrà tutt'altro ritmo e sarà molto visivamente anche molto chiara e sicuramente comica ecco volevo sottolineare questo io mi sono chiesto anche Leo nel primo atto Dario appare come molto saggio no placa gli altri due riottosi pretendenti al trono qui invece non ci fa una gran figura è vero che non è un teatro naturalistico come si fa cioè come lo vedi questo personaggio come te lo sei spiegato la difficoltà è riuscire a trovare delle coerenze quindi renderle credibili allo spettatore che sta guardando anche laddove ci sono delle incongruenze le cose che ci siamo detti durante le prove è che lui quando si trova in una situazione ufficiale sa sempre cosa dire ha studiato bene è stato ben istruito è sempre preciso ed è sempre opposto quando in realtà ha a che fare con situazioni private e noi lo vediamo nel suo privato lo vediamo sempre in relazione con statira o con argene intento a cercare di tirare fuori i suoi propri sentimenti a trovare il modo di far innamorare di sé statira in realtà nelle faccende puramente privato è l'uomo più impacciato più imprevedibile che si possa immaginare e Carlo Alemanno è un fuoriclasse da questo punto di vista scenicamente ci sono tutti i sorrisi proprio così spenderemo delle parole poi sul cast non brucio niente no no possiamo spenderle volevo solo finire le vicissitudini della lettera perché questa lettera poi Argen la usa per convincere statira che Dario l'ha scritta a lei e che quindi Dario sia infattuato di lei dopo aver diciamo reso edotta statira di questa cosa canto un'aria che non ci perdiamo e che è fermo scoglio in mezzo al mare e l'occasione è per chiedere a Ottavio D'Antone i personaggi hanno una qualche tipo di identità musicale o c'è un vocabolario musicale comune? No devo dire che rispetto a quello che dicevo prima nell'opera barocca poteva tranquillamente succedere che un cantante in un certo momento dell'azione esprimesse cioè per esprimere magari si chiamava un affetto quindi un'espressione quello che poi si chiamerà sentimento poteva cantare cose che non centravano granché no? poteva essere succede anche in quest'opera perché per esempio quando Ronte canta non mi lusingava la speranza è un'aria di speranza ma sembra un'aria di dolore poteva succedere ma devo dire che in generale in quest'opera devo denotare che le aree sono piuttosto azzeccate dal punto di vista del carattere cioè sono credo volutamente ben cucite anche da un punto di vista drammaturgico ma lo si vede anche dal fatto che in fondo in quest'opera a differenza di altre dello stesso periodo l'elemento puramente virtuosistico perché ripeto la gente andava a teatro e ci andava anche dieci volte di fila poi si innamorava di certe aree o di certi virtuosivi dei castrati e quindi andava lì parlava tutto il tempo dopo la prima dove si ascoltavano un po' per vedere la storia poi non gli fregava più niente perché lo sapevano come era la storia mancando un vero impianto registico mangiavano facevano altre cose chiacchieravano un gran brusio e poi quando arrivava l'aria interessante ci mettevano ascoltavano quest'aria e poi ricominciavano a parlare ma qui questo meccanismo non funziona tanto perché ci sono aree con molto vigore molto carattere ma che non mettono necessariamente in luce grandi acrobazie sì in qualche caso in Argene in particolare quando poi alla fine viene arrestata lì canta un'aria di furore che è proprio tipica super virtuosistica con delle evoluzioni vocali notevoli ma altre aree che sono comunque molto efficaci anche soltanto ritmicamente sono modellate sulla parola pensiamo all'aria di Statira e lo sposo non fa per me non fa per me cioè il sillabato addirittura e Vivaldi è stato uno dei primi compositori in quest'opera ma anche in un'altra che ho inciso nel Tito Maglio a un certo punto c'è un'aria che sembra Rossini il sillabato rossiniano cioè con cento e più anni di anticipo quindi è importante notare questa cosa quindi direi che in quest'opera sì c'è abbastanza aderenza più del normale proprio tra la scrittura musicale e il significato dell'aria sentiamo Argene in fermo scoglio in mezzo al mare e questa era appunto un'area col da capo interpretata da Delphine Galù che è anche l'argene della nostra produzione a questo punto la nostra produzione ha inserito un intervallo spezzando lo spettacolo in due parti anziché in tre come sono gli atti e l'azione riprende in un luogo in cui si riuniscono i tre pretendenti e invocano il dio Apollo per chiedergli come gestire la questione della successione di Ciro e la risposta gli viene data da un oracolo che conferma il fatto che la scelta aspetta Astatira ed è lei solo lei che può scegliere il nuovo imperatore e quindi visto che avevi già un po' anticipato Leo il sottotesto di questa regia come chi è l'oracolo di Apollo in tutto in tutto questo c'è da tradimento proprio c'è proprio le cattiverie però dobbiamo partire un po' da prima nel senso quando quando dovevamo decidere con i ragazzi dell'Accademia di cui si parlava prima quale direzione puoi dare alla messa in scena dello spettacolo c'è stato immediatamente chiaro che avremmo capito come impostare il lavoro scenografico quindi con i costumi nel momento in cui avremmo capito qual è il potere che questi cercano di raggiungere questi rappresentanti dei nobili della plebe e delle milizie e l'idea è stata quella di cercare di aderire anche rispetto ad una suggestione che c'era arrivata dal direttore artistico nel momento in cui mi proponeva quest'opera mi diceva guarda la sto proponendo a te quest'opera perché sono certo che non mi metterai i pepli in scena e quindi in qualche modo c'era un'indicazione sotto l'idea è stata ad un certo punto è arrivata l'idea il potere siamo in Persia in un mondo vicino al Medio Oriente ci siamo detti una possibilità può essere quella di raccontare il potere immaginando un potere economico derivato dal petrolio da tutto ciò che ne può conseguire dall'avere dei possedimenti petroliferi e in realtà il nostro Ciro di Babilonia è un'ex magnate con dei possedimenti importanti che vengono ereditati da questa statira difettosa di mente assolutamente incapace a gestire questo potere economico poi si presentano questi tre e quando arriva l'Apollo di cui si parla all'inizio di questa seconda parte dello spettacolo che in realtà coincide con la metà del secondo atto quando arriva questo Apollo arriva uno che noi lo facciamo assomigliare molto a Tom Cruise cioè di fatto lui assomiglia proprio a Tom Cruise arriva ed è come se fosse è vero Cullen è uguale a Tom Cruise secondo me è lui è sosia ed è un è come se fosse un non è di fatto una divinità ma è come se fosse qualcuno arrivato da esattamente da Wall Street uno che dà delle indicazioni molto precise su come poter poi in qualche modo direzionare le politiche per insomma per poter far sì che questo pozzo petrolifero non perda in quotazioni non perda in forza economica e quindi il nostro Apollo in realtà è un pollo di Wall Street fondamentalmente e niente la giriamo a caciocavallo essendo pugliese la giriamo a caciocavallo sì ecco a me ha fatto venire in mente che poteva essere un banchiere di una banca centrale di un vecchio continente sì è quello di fatto per me è un pollo di Wall Street appunto dopo questa scena che ha come risponso il fatto che può scegliere solo Statira Oronte canta quest'aria stupenda in cui pensa di avere buone chance di riuscire a conquistare Statira l'ascoltiamo e la commenti ma io la commenterei prima così poi la si comprende di più allora in questo momento Oronte è convinto di conquistare Statira quindi canta un'area che dice non mi lusinga vana speranza cioè questa speranza non è affatto vana cioè io ce la farò avrò Statira e un altro avrebbe musicato quest'aria in maniera molto molto diversa invece è una sorta di cioè c'è questo strano un po' malinconica con delle soluzioni armoniche sorprendenti non vi dico niente perché sentirete anche delle cose che sorprendo improvvisamente e non soltanto quest'aria sembrerebbe non aderire allo stato d'animo del personaggio ma in più essendo pure secondo me l'area forse più bella dell'opera è affidata a un personaggio che non è tra i principali non è tra i protagonisti e questo secondo me è una prova ancora in più che quest'opera non è basata sui normali rapporti tra i personaggi sapete che per un impresario che poi a volte era anche il compositore mettere un cast e mettere in scena un'opera era un vero e proprio incubo perché normalmente doveva fare una graduatoria del numero delle aree allora il primo uomo che era il castrato doveva avere un tot numero di aree la prima donna un tot numero di aree se per caso qualcuno aveva un'aria in più o una scena in più succedevano dei casini terribili rischiavano di sciogliersi le compagnie quindi le opere a volte sono costruite secondo uno schema e anche una successione delle aree perché il primo il protagonista doveva avere un certo tot ma anche con un certo tipo di scansione mentre invece l'ultimo personaggio poteva avere neanche un'aria tanto quello comunque non avrebbe mai protestato e quando ho detto questo perché quest'opera non è tanto incentrata su aspetti esteriori virtuosistici ma segue abbastanza proprio il senso del libretto il fatto stesso che un'aria così importante sia affidata a Oronte che si è un personaggio però non è non è né Dario non è né Statira non è neanche Argene questo secondo me è un segno è un segnale che comunque la visione della scrittura di Vivaldi in questo lavoro in particolare ha cambiato leggermente quelli che erano gli equilibri normalmente messi in campo sì mi permetto scusate di aggiungere solo una cosa perché magari uno vuole fare il simpatico a tutti i costi e sembra che veramente l'abbiamo buttato in cacciacavallo in questa scena che poi è un momento proprio musicalmente molto alto e anche molto poetico è un momento in cui per esempio l'azione si sospende completamente perché quello che di fatto cerchiamo di tradurre questo pensiero così alto con un'azione molto fisica quello che in quel momento il personaggio cerca di fare si ritrova in questa sala del trono per la prima volta da solo circondato dagli operai che come lui lavorano in questo pozzo petrolifero e quello che cerca di fare è toccare per la prima volta questo trono questa scrivania che sembrerebbe poi poter diventare il suo futuro fondamentalmente quindi si ritrova in questo momento ed è un momento nello spettacolo particolarmente poetico che asseconda in tutto e per tutto quello che poi sentirete adesso si può anche ricordare in un film musicale per esempio in un musical dove c'è anche un'azione anche se cantano e come si fermasse tutto luce sul e così poi luce sul cantante Frank Sinatra e canta questa cosa qua che ha una valenza poetica a prescindere è un momento alto punto e basta era Lucia Cirillo in disco e la sentirete anche a teatro non rimane molto tempo e mi farebbe piacere se ci fossero domande dal pubblico poter rivolgere a Ottavio D'Antonio e gli ho muscato diciamo che nel seguito dell'opera la pazzia di Statira avrà la meglio nel senso che prometterà la sua mano a tutti e tre i pretendenti e complicando le cose a un certo punto Niceno e Argene architettano di come dire confinarla fuori dalle mura tra le belve della foresta ma Dario la salverà e quindi il finale è felice Leo Muscato intanto chiedo se una maschera può prendere il microfono se sono domande Leo Muscato prima mi ha detto volevo dire qualcosa sul cast prego no nel senso è una cosa che accade molto raramente per uno che fa il mio lavoro ma veramente questo cast ha permesso uno spettacolo di solito è sempre il frutto che un determinato numero di persone fa insieme questa è una di quelle rare volte in cui io personalmente ho avuto la sensazione che fossimo tutti quanti lì solo ed esclusivamente per lo spettacolo e effettivamente c'è un cast di cantanti eccellenti di interpreti favolosi e anche esseri umani proprio belli da frequentare anche nella vita privata no perché non è scontato paradossalmente non è scontato è proprio una cosa reale una cosa che fa lo spettacolo quindi ci tenevo a dire che sono veramente un cast messo insieme in maniera impeccabile perfetto ci sono domande che volete porre al direttore e al regista dell'opera possiamo ancora un po' di luce in sala grazie pronto a orlando perera si vorrei fare una domanda a Leo Muscato e l'altra a Tavio Dattone ma è stato più velocissimo quella di Leo Muscato è una domanda un'osservazione io ho visto ieri sera la generale ma soltanto la seconda parte ho notato che alcuni da campo non tutti ma almeno alcuni venivano eseguiti a spaglio chiuso quindi mi confermo è una scelta è una scelta che in qualche modo risponde già a quello che è stato detto prima integra a quello che è stato detto prima sulla difficoltà di affrontare i da capo senza essere loiosi insomma e io ho trovato molto appropriato perché in questo momento proprio si esalta l'arresto dell'azione e in qualche modo ci si sposta su una dimensione quasi sorreale cioè si pari o chiuso e c'è solo i trattati che eseguenti a capo voglio dire come si è capito mi è molto piaciuto ed è anche un espediente mi perdoni se ne interrompo è anche un espediente concreto tecnico che ci permette di guadagnare 12 minuti sulla vita degli spettatori perché altrimenti avrebbero 12-15 minuti avrebbero trascorso 15 minuti ad aspettare dei cambi scena perché ogni quadro sono 9 quadri diversi sono 9 scenografie molto diverse che hanno la necessità più o meno di un minuto di cambio scena e questo si pari quindi le cose intelligenti rispondono sempre fanno sempre più cose insieme e poi invece a Ottavio D'Antone volevo chiedere questa devo dire io che insomma frequento da dilettante abbastanza la musica di Vivaldi questa scoperta del Vivaldi comico del Vivaldi dell'opera con un cotè comico pronunciato messo molto bene in evidenza dalla regia ecco Vivaldi come lo esprime musicalmente? ci sono il fagotto forse anche in qualche modo della strumentazione che lui usa così ricca così variata così anche creativa come lo esprime? ha fatto bene a citare il fagotto perché anche questa area del fagotto di Niceno il fagotto anche in epoca più moderna è sempre stato visto e identificato anche come strumento per sottolineare una certa bonarietà o un certo impaccio o simpatia anche semplicemente po 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 e qui Vivaldi usa questo fagotto proprio in questa chiave e questa per esempio è un ottimo esempio gli elementi comici credo che siano in particolare presenti nei recitativi e credo che chiaramente è bene sapere è bene che il pubblico sappia che in una partitura del settecento ci sono i recitativi ci sono delle note tutte uguali cioè dello stesso valore con il testo e nel basso c'è solo il basso delle note lunghe con nessun tipo di indicazione su chi suona e quanto deve essere lunga questa nota quindi vanno in un certo senso tutti costruiti sul ritmo della parola ma anche da un punto di vista timbrico per fare i recitativi che sono le parti appunto dove si racconta oppure ci sono delle situazioni comiche ho deciso di avere a disposizione io stesso al clavicembalo in alcuni momenti anche il secondo clavicembalo scritti assolutamente da vivaldi ma normalmente si utilizzavano il basso continuo la lunghezza di una certa nota il fare forte o piano una sospensione e comunque ripeto i recitativi di quest'opera come ad esempio nel caso della lettera ci sono delle pause degli innesti degli strumenti che poi si interrompono sono scritti in maniera estremamente dal punto di vista drammaturgico estremamente in maniera che suggeriscano proprio anche non soltanto la strumentazione ma anche lo svolgersi ritmico della vicenda i gesti per cui in questo caso ho avuto il lavoro facilitato da vivaldi stesso perché devo dire che in altre occasioni bisogna anche un po' inventarsi le situazioni che sono note è un po' la chiave della musica barocca cioè l'emozione è nascosta ci sono dei codici che la rappresentano ma questi codici non sono precisi il modo di eseguire non è preciso bisogna conoscere il linguaggio e cercare di farlo aderire il più possibile all'emozione che si vuole provare quindi in questo caso secondo me nei recitativi più che nelle aree anche se sono diverse aree che comicamente come nel fagotto oppure anche con dei ritmi sincopati nel caso di aria con arpago più di tipo guerresco nel caso di Alinda la ragazzina sedotta e abbandonata un'aria con il flauto che imita gli uccellini perché io sono un augelletto cose di questo tipo anche l'aria di Statira quando diceva l'aria che ha dei momenti comici perché lei fa finta di andare via poi ritorna gli scappa di mano e loro cercano di prenderla e comunque anche lì ci sono momenti di imitazione della natura in quest'opera abbiamo veramente molta carne al fuoco già da parte del compositore io non voglio lanciarmi perché io conosco bene questo repertorio e voler esagerare sul fatto del descrittivismo nel campo della musica barocca è un rischio però se c'è un'opera dove si vede proprio si intravede chiaramente una volontà dell'autore di scrivere una situazione particolare è proprio questo ripeto sia in chiave comica che drammatica e proprio sotto tutto in rivista ritmici che aiutano l'azione è per quello che io subito ho detto quando siamo confrontati con il direttore artistico se vuoi fare un'opera di Vivaldi questa la puoi mettere in scena perché Vivaldi non è così facile da mettere in scena ma questa aiuta moltissimo un'altra cosa molto bella che in realtà ha fatto anche musicalmente che a me ha sorpreso è sull'accompagnamento dei recitativi prima vi dicevo che ci sono tanti a parte sono i pensieri che il pubblico non deve sentire in realtà hanno degli accompagnamenti diversi questo aiuta molto per noi a seguire l'azione in palcoscenico immaginate un certo punto dove Dario sta dicendo io mi presento qui a Stati e poi si volta perché pago ronti a me il contenda in quel punto accompagna soltanto il liuto con degli accordi strappati per far sentire che è una parte quindi c'è proprio la scelta dell'uso di determinati strumenti è fatta proprio in chiave drammaturgica ma la scrittura diciamo che la ispira al 80% e devo dire che in questa occasione diversamente da altre è l'orchestra del teatro regio cioè gli archi e i fiati sono dell'orchestra anche dei continuisti cosiddetti a parte il liuto appunto e il maestro D'Antonio Alcembrano sono archi delle prime parti di Contrabbasso e Bioruncello ci sono altre domande? c'è forse un signore qui è già anche lì ci sono due signore sì una domanda per D'Antone e poi una per tutte e due le opere di Vivaldi dovendo far riferimento a una forma più vecchia che stava anche per andare in disuso di lì a poco quanto hanno sofferto nella loro diffusione e divulgazione rispetto alla forma del concerto dove invece lui era una specie di pioniere diciamo questa è la prima domanda la seconda domanda era la filologia di D'Antone si è mai scontrato in questa messa in scena con la necessità di attualizzare qualcosa nella regia di Moscato grazie allora diciamo che la risposta può comprendere le due domande nel senso la difficoltà fino a oggi comunque parlo degli ultimi fino a 10-20 anni fa di mettere in scena opere di Vivaldi è data dal fatto che non conoscendo determinati meccanismi si chiamano retorici nel modo di interpretare e di porgere un certo tipo di gestualità anche ma un certo tipo di carattere espressivo ha impedito a queste opere di essere sviluppate prima cioè intendo dire che con gli studi che sono fatti sul linguaggio proprio di questa musica si sono acquisite delle conoscenze che alla fine sono in grado di far comprendere a voi al pubblico determinate emozioni così come le aveva pensate l'autore ovviamente l'emozione che pensa l'autore teoricamente deve essere la più forte la più comunicativa quella che arriva direttamente allo spettatore leggere un Vivaldi senza avere diciamo dietro le spalle uno studio proprio sul anche sociologico su quell'epoca senza conoscere quali erano determinati meccanismi rischia di generare degli equivoci dal punto di vista dell'ascolto intendo dire che 30-40 anni fa presentare un'opera di Vivaldi senza le dovute conoscenze sia musicologiche che anche teatrali dell'epoca generava in ospedatore un senso di boh come fanno Dario molto spesso boh perché non arrivava non arrivava ora sia il modo di suonare il modo di eseguire abbiamo imparato una lingua ecco abbiamo come imparare l'inglese come tenta di imparare l'inglese ma non sa una parola che fa finta come faccia Celentano non si capisce niente quindi no ora la lingua si sa quindi invece ecco questa è la seconda domanda interessante perché mi permette di mettere in luce un problema che a volte viene portato alla luce cioè quello della trasposizione in epoca moderna di storie pensate in un altro allora quello che io non sono assolutamente contrario a una trasposizione in qualsiasi epoca anche nello spazio sempre che e per fortuna io nella mia carriera ho avuto molta fortuna e in questa occasione ancora di più perché quando il regista traspone anche in maniera come in questo caso sembrava quasi naturale sì in un posto petrolifero cioè i rapporti tra i personaggi non cambiano le concatenazioni tra i personaggi dal punto di vista emotivo retorico relazionale dialettico non cambiano cambia soltanto la messa in scena allora in questo caso è assolutamente rispettoso perché è soltanto nel momento in cui Leo avesse deciso che Argene è innamorata di Flora che non c'entra niente invece che di Dario cioè oppure che Dario diventa omosessuale sì quasi in molti registi molto spesso loro partono da un'idea che è nella loro testa e poi arrivano a cambiare addirittura la struttura dell'opera per far aderire a quello che loro in principio avevano immaginato stravolgendo la partitura e fanno questo tipo di relazione ma non funziona perché l'opera è stata scritta per avere determinate relazioni quando il regista come in questo caso riesce a mantenere queste relazioni e costruisce attorno un ambiente visuale anche diverso ma che mantiene inalterati questi rapporti ecco che si può ambientare in qualsiasi epoca ci sono ancora delle domande? signora il microfono dicevo una cosa molto semplice se sulla base della documentazione che si è conservata sappiamo sempre quale dei cantanti fosse un castrato e quale invece una donna perché c'erano gli uni e gli altri magari nella stessa opera no? sì abbiamo moltissime documentazioni nel caso di quest'opera a Venezia penso fossero misti c'erano castrati e donne e poi vi spiego invece a Roma che è successo allora Dario era un uomo a livello e più fabbri statira una donna argene una donna niceno un uomo alinda una donna Oronte un castrato Carlo Cristini che però faceva parte di un uomo Arpago era una donna un travestì adesso vi spiego perché facevano questi giochetti e Flora era una donna quindi quasi tutto rispettato con la differenza che molti ruoli maschili hanno scritti per i ruoli di castrato ovvero hanno una tessitura che oggigiorno una donna può fare o un sopranista ci sono anche dei cantanti maschi che riescono ad andare molto in alto il castrato era famoso perché aveva delle possibilità vocali che oggi noi non possiamo immaginare è rimasta soltanto un'incisione dell'ultimo castrato della Cappella Sistina dei primi anni del novecento perché la Cappella Sistina ha protratto molto a lungo l'utilizzo perché quando ero ragazzo io ho cantato nel coro della Cappella dell'Uomo Milano le donne quando ero ragazzo non potevano salire sull'altare non potevano proprio salire sull'altare per cui bambini o castrati a Venezia sul palcoscenico non c'erano particolari divieti da parte della città potevano cantare sia donne che uomini teniamo presente che una donna che cantava all'epoca era la stregua di una postituta comunque cantare in teatro all'epoca sì diventava una vampa ma non era certo un mestiere per gli uomini era chiaramente diverso però c'era anche il gioco perché era un po' nel gusto del pubblico di vedere dei cosiddetti ruoli antravesti cioè donne travestite da uomini che cantavano parti di uomo e uomini travestiti da donna anche se avessero avuto a disposizione donne che facevano il contrario poi c'erano altri problemi perché quest'opera fu rappresentata poi a Roma e a Roma c'era il divieto papale che le donne calcassero i palcoscenici a quel punto in questi casi cantavano solo uomini sia travestiti da donna con la voce quindi di castrato e quindi anche uomini tra l'altro poi da notare che in questa opera ci sono almeno due ruoli prettamente maschili da tenore e da baritono ma la prossima opera che inciderò l'anno prossimo di Vivaldi che è il Giustino ha tutti i ruoli sia maschili che femminili per voci acute non c'è sì c'è un tenore ma non sono le parti più importanti quindi comunque il gusto per la voce del castrato per la voce acuta era preponderante rispetto alla voce alla voce più bassa comunque tutto questo è documentato lo si può vedere ci sono anche bellissimi libri sulla storia dei castrati e lì veramente ne leggete delle belle perché era un mondo assolutamente incredibile va bene grazie allora da domani fino al 23 l'incoronazione di Dario ma il maestro D'Antone eseguirà anche un dirigirà anche un concerto il 21 con i magnificati di Bach messo a confronto con quello di Vivaldi e in mezzo il famoso Gloria di Valdiano grazie a tutti buonasera grazie arrivederci buonasera arrivederci